Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose Nove Ci ho messo tanto a confezionare questo video perché è una cosa che mi ha toccato veramente da vicino e non è stato piacevole però ci tenevo a portarvi anche questa piccola testimonianza quindi le mie vacanze 2021 dovevano iniziare così Siamo partiti da un'oretta circa qua potete vedere il guscio e la bicicletta è la prima volta che appendo una bicicletta sopra alla macchina ho una paura frega che cada però per adesso sta tenendo in realtà l'ho legata molto molto bene e ho fatto questo lavoro tipo a luna di notte stanotte prima di partire perché eravamo veramente in alto mare e speriamo che la situazione migliori Bene ecco, quello che è successo dopo ve lo racconto perché chiaramente non avevo la forza né la possibilità di poterlo registrare siamo arrivati a questa stazione di servizio vicino Genova e ci stavamo dirigendo in Toscana stavo giocando tranquillamente con mia figlia dopo aver fatto un pochino di merenda e ad un tratto senza preavviso senza aver possibilità di scamparne io ero sereno, tranquillo, rilassato e un braccio ha iniziato a farmi così e in mezzo secondo mi ha preso questa clonia che poi ho scoperto si chiama clonia questi movimenti incontrollati e incontrollabili degli articolazioni mi ho preso tutta la parte sinistra in un attimo io dico che ho avuto quella sensazione che si spegnesse tutto quel lato sinistro e di non averne più il controllo che poi non è proprio esattamente vero perché sono riuscito a sedermi e a sdraiarmi senza crollare a terra come una peracotta però è stato un momento veramente agghiacciante per me dopo circa un minuto e mezzo, due minuti che ero sdraiato mi sono messo seduto e dopo qualche secondo mi ha preso dalla parte destra così, boom sono tornato sdraiato per terra al che mia moglie e le persone che stavano passando di lì hanno deciso di chiamare pronto soccorso dopo qualche minuto è arrivata l'ambulanza mia figlia che piangeva, che mi saltava addosso che cercava di tirarmi su di papà, papà, papà era disperata perché io con lei ho un rapporto veramente molto forte io però non ero preoccupato sapevo che era successo un casino che ero per terra però respiravo bene ero tutto sommato tranquillo e sereno stavo cercando di mantenere la calma e non avevo altri sintomi strani quindi tutto sommato era solo quello semplicemente non ho più controllato il mio corpo per qualche secondo e sono crollato arrivata l'ambulanza mi hanno preso i soliti valori vitali pressione, ossigenazione, queste cose qui ed erano tutti perfetti al che hanno deciso ovviamente di portarmi all'ospedale più vicino per accertamenti ospedale bellissimo devo dire un corpo sanitario stupendo ma io ho sempre pensato che i sanitari siano un po' degli angeli perché io non farei mai un lavoro del genere e loro ne vedono di tutti i colori in quel tempo che sono stato lì anche io ne ho viste di tutti i colori gente che moriva, gente che arrivava tutta sanguinante situazioni brutte poi ho passato la notte lì per fortuna solo una notte però ero in osservazione non ero in una stanza quindi con tutti i malati insomma un po' più gravi da tenere d'occhio perché la mia situazione era incerta mi hanno fatto tantissimi esami ne ho veramente un plico gigantesco e con nessun esame di quelli che ho fatto il risultato niente ho fatto la TAC, l'RX al torace, esame del sangue, di equilibrio, di forza, di riflessi ne ho fatti veramente tanti 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 ho dovuto aspettare però il giorno dopo per poter fare l'elettroencefalogramma che era l'ultimo accertamento che poteva dare un po' di senso a questo episodio che mi era capitato ho quindi aspettato lì ho mangiato un paio di pasti veramente terribili però me li sono fatti andare bene pollo, robe da ospedale che ho mescolato cercando di farli ottenere un pochino di sapore ma diciamo che in quel momento lì non era tanto quello che mi premeva ma sapere che cosa era successo anche perché ero preoccupatissimo per mia moglie e miei figli che erano fuori lei era fuori con un bimbo di appena due mesi una bimba di quasi tre anni che è una pazza scatenata ed era una situazione veramente complessa poi sono venuti giù i miei, lei è tornata su mio papà mi ha aspettato fuori cioè è successo veramente un casino gigantesco il giorno dopo ho poi firmato la rinuncia al ricovero perché volevano tenermi lì altri quattro giorni ed ero lontano da casa non me la sentivo di stare lontano dalla mia famiglia, dai miei figli e ho deciso di farmi accompagnare poi a casa dal mio papà anche perché stavo un pochino meglio lui mi era venuto a prendere lui mi ha accompagnato poi a casa non sono però tornato subito a casa mia ma sono stato qualche giorno a casa dei miei genitori poi in mezzo c'era il weekend perché io stavo partendo per le vacanze volevo approfittare anche di avere un weekend un po' più lungo in quelle condizioni a casa non potevo stare perché non mi sarei riposato avevo bisogno, veramente un estremo bisogno di riposare e adesso sono qui a casa dei miei a riposare e da lì sono passati circa un mese e mezzo ho fatto un casino di accertamenti ho fatto altri esami sono andato dai medici, sono andato da neurologo ho fatto tre risonanze magnetiche cerebrale, spinale, cervicale e un nuovo elettronecefalogramma perché quello fatto in ospedale non dava risultati decenti non si capiva esattamente cosa potesse essere ipotizzavano ipilessia ma poi dal primo appuntamento con la neurologa mi ha detto subito che era di escludere completamente perché non si presenta in quel modo lì bene, domani mattina presto vado a fare gli ultimi due esami tre che mi mancano anche se poi in realtà ne manca ancora un altro sono delle risonanze magnetiche per capire se va tutto bene sono però quelli più importanti perché ho già fatto una miriade di esami e voglio vedere che cosa c'è se c'è qualche problema se c'è qualche problema a cercare di risolverlo altrimenti starmene tranquillo finalmente e godermi un po' di pace dopo aver fatto tutti gli esami li ho completati e non è risultato assolutamente niente sono sano come un pesce quindi che cosa è successo? l'ipotesi più accreditata sia dal mio medico che dal neurologo io in quel momento lì abbia sofferto di un estremo gigantesco, micidiale esaurimento nervoso collegato anche a una grandissima stanchezza perché per due o tre notti precedenti avevo dormito pochissimo avevamo fatto le corse per finire tutto quello che dovevamo finire prepararci per le vacanze scappare finalmente e riposarmi perché avevo veramente un estremo bisogno di riposo e invece è andata così non ho potuto riposarmi non mi sono riposato in vacanza ho avuto delle settimane veramente pessime perché poi anche stando tra virgolette a casa non sono riuscito a riposarmi perché ho dovuto fare le corse l'ufficio, l'inps perché poi avevo chiesto paternità quindi ho dovuto farmi revocare un pezzo medici, esami è stato un casino un casino pazzesco adesso che ho ricominciato a lavorare a fare il mio lavoro vero mi sto finalmente riposando un pochino però capite bene che ha ripreso direttamente di nuovo tutto il volano a girare e tutto questo turbine di cose che mi capitano intorno perché ogni giorno ce n'è una ed è veramente veramente difficile riuscire a riprendersi in questo contesto adesso stiamo cercando di capire quale possa essere la cura migliore da adottare in questo momento io faccio finta di che non sia niente faccio finta che vada tutto bene cerco di reagire il più possibile comunque sto riprendendo a fare anche attività fisica perché per me è molto importante voi lo sapete io adoro andare in bicicletta adesso con rinnovata forza cerco di portarla in tutti gli aspetti della mia vita andare a fare la spesa portare mia figlia a scuola eccetera mi sto divertendo veramente un sacco cerco di rilassarmi il più possibile e parte di questo rilassamento sono anche questi piccoli video che io vi porto sul canale perché per me è uno sfogo eccezionale riuscire ad avere un contatto anche se piccolo con la mia community la mia piccola community che siete voi ragazzi io vi voglio bene e quindi ci tenevo a raccontarvi anche questa brutta esperienza che ho fatto e queste pessime vacanze 2021 io avevo già programmato di fare video cose, robe in giro tranquillo, girare e rilassarmi spiaggia, stare lì a mollo con i piedi a mollo però purtroppo è andata male quindi dovrò aspettare forse l'anno prossimo a meno che non ci saranno altri lockdown casini, robe che bordello ragazzi che bordello diciamo che è stato un periodo comunque molto complesso per me quest'anno perché tra il covid gli altri casini che ho avuto prima problemi di stomaco che mi avevano preso all'esofago che non respiravo robe tremende la nascita di mio figlio quello nuovo perché ce ne avevo già una non che sia vecchia però la nascita del mio nuovo bimbo il cambio effettivo di lavoro perché poi ho avuto l'assunzione veramente la vera assunzione dell'azienda dove sta lavorando adesso a luglio e poi un sacco di altri casini che ci sono stati intorno non sto neanche a raccontarvi perché veramente nel passo di tutti i colori ebbene probabilmente tutto questo con il fatto che io già soffrivo di insonnia tanto prima non mi è stato utile devo cercare di riguardarmi un pochino comunque se questo video vi sta piacendo io vi ricordo che potete lasciare un like iscrivervi al canale attivare la campanella e questo sì che mi renderà felice e gioioso e mi aiuterà a superare anche questi momenti di difficoltà grazie a tutti per essere stati con me anche oggi spero che vi sia piaciuto questo piccolo racconto con delle immagini che ho preso che sono uscito a prendere durante le varie visite che ho fatto ci vediamo domani per un nuovo entusiasmante video se non sarà domani mi dispiace questo è un periodo veramente un po' complicato sarà tra qualche giorno grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti